ebbene sì cari amici della tg events oggi siamo in presenza di una bellissima show girl lei è stata una delle protagoniste del grande fratello edizione 2006 oggi però è anche in veste di presentatrice ebbene sì siamo qui in compagnia di penso l'abbiate riconosciuta tutti giovanna rigato giovanna stavo dicendo che tu sei una presentatrice di un programma di successo ce ne vuoi parlare ma certo cari andrea allora io ho presentato di recente sfida in tv che è un talent show dove abbiamo selezionato vari giovani ma anche meno giovani e che si esibivano appunto in canto a volte anche in ballo però soprattutto cantavano e da ogni puntata ovviamente c'era un vincitore abbiamo fatto 11 puntate di sfida in tv che è stato molto seguito anche sui social però non possiamo fare ancora la finale in teatro perché sono chiusi tutti i teatri e quindi stiamo aspettando che che ci diano il via allora cantano e ballano in questo talent è una specie di talent giusto sì certo ogni puntata appunto veniva vinta da dal più votato c'era una giuria molto agguerrita tra cui un giornalista anche spietatissimo che dava voti bassissimi il mio amico fabio ricci che saluto ciao fabio e poi avevamo anche altre showgirl che davano la loro opinione sul canto insomma certo certo e giovanna progetti per il futuro so che c'è forse un programma televisivo nuovo 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 sì adesso stiamo buttando le basi di questo nuovo programma è già stata fatta una riunione un programma che è rimasto nel cuore degli italiani che non so se dobbiamo dirlo con smilea quel programma bellissimo che faceva smilea negli anni 80 speriamo che vada in porto è rimasto soprattutto nel cuore degli italiani maschi vorrei dire io ringrazio giovanna perché è sempre carina sempre gentile perché mi segue sempre nelle mie avventure radio televisive un saluto a tutti gli ascoltatori agli amici di tg events seguitici seguiti sui social perché stiamo crescendo in maniera esponenziale un saluto a tutti andrea events per tg events grazie a tutti